L'Inertec mi sento a casa, si vive un clima sereno e collaborativo tra noi colleghi. Ciao a tutti, sono Marietta Giovannelli e sono in Inertec da oltre 18 anni, come responsabile dell'ufficio amministrazione. Quando sono arrivata qui l'azienda era nata da poco, quindi siamo cresciuti insieme, sia personalmente che professionalmente, grazie anche alle cose di formazione messe a disposizione dall'azienda. L'Inertec mi sento a casa, si vive un clima sereno e collaborativo tra noi colleghi ed anche nei momenti di difficoltà personale ci si aiuta a vicenda, quindi anche per questo vi consiglio di far parte del team.